La porta del Golfo 2011 è realtà. Il protocollo d'intesa tra le proloquo dell'Alto Tirreno Cosentino e della Bassa Lucania è stato firmato ieri pomeriggio presso l'hotel Napoleone di Tortora, alla presenza delle delegazioni delle associazioni di promozione territoriali di Tortora, Aieta, Praia Mare, San Nicolarcella, Maratea, Lago Negro, Lauria, Rivello e Nemoli. Un protocollo che sancisce quindi un'unione importante tra Basilicata e Calabria, tutto rivolto alla promozione territoriale e allo scambio culturale. La porta del Golfo 2011 è un progetto che praticamente farà promozione di ogni evento, di ogni attività che verrà svolta, di ogni struttura che rientra in collaborazione con le varie proloquo, verranno promosse sugli altri territori. Per tanti anni si sono lanciati slogan di unione tra le varie regioni, tra le varie province del Golfo di Policasso, tra i vari comuni, slogan in realtà che spesso ci siamo resi conto, anche essendo un po' giovani, che erano slogan elettorali e non di fatto. Questo non aiuta nessuno a crescere. Con questa iniziativa delle proloquo abbiamo un atto scritto, sottoscritto, firmato oggi, che ci impone, che ci vincola ad essere uniti e secondo me, avendolo fatto in piena autonomia e in piena libertà tra le proloquo, sarà veramente una nuova frontiera, una nuova visione per tutto il Golfo di Policastro. Un plauso all'iniziativa è giunto anche dal primo cittadino di Tortora, Pasquale Lamboglia, che ha preso parte, insieme all'assessore al turismo Biagio Praino, al convegno di ufficializzazione di un'altra importante iniziativa tutta tortorese, un patto d'amicizia tra la proloquo di Tortora e quella di Casa Pesena, piccolo paese dell'entroterra a Casertano, e che sarà ufficializzato il 5 marzo prossimo. Quando si parla di valorizzazione del territorio a 360 gradi, che sia la cultura, che sia il turismo in generale, che sia qualsiasi possibilità che si dà, possibilità di crescita al nostro territorio, ci siamo sempre dietro, uniti si vince, se ci dividiamo anche nel campo del turismo, ognuno va avanti per conto proprio, come in tutte le cose non approdiamo a niente.